sono sempre più ammaliato sempre più incantato da questa squadra per come interpreta le partite per come le prepara il suo allenatore per come il suo allenatore non lascia nulla al caso ma soprattutto per la fame che questa squadra dimostra di avere io ve lancio una provocazione tra poco poi coglietela come volete ma arrivati a questo punto della stagione e guardando l'andamento di questa squadra è proprio il caso di dirlo senza volerla gufare ovviamente a nessuno mo ci arriviamo con calma non fate caso ai pappagalli vi saluto immediatamente ciao e bella a tutti da me allora innanzitutto una marea di mi piace se volete in me se stanno a litigare la coppetta poi sempre mentre comincio a registrare io vi giuro ragazzi che non registro sto qua a vedere le partite non vola una mosca quando sto a fare qualcosa fanno macello chiedo scusa da parte di pappagalli lasciate mi piace se volete in merito il parere del buon fabio deve esprimere lo ripeto il suo parere su tutte le partite di questa giornata di serie a mancano ancora le partite di domani però c'è tanta carne al fuoco ve lo porto domani mattina alle 7 iscrivetevi e attivate la campanella così vi arriva sempre la notifica sul cellulare ogni volta che pubblico qualcosa due canali youtube di calcio un canale youtube extra calcio tutto in infobox o i canali compariranno qui durante il video prima della provocazione io partirei dalle scelte iniziali devo dirvi la verità la pura e semplice e onesta verità quando sono uscite le formazioni ufficiali e ho letto praticamente la squadra titolare un po sono rimasto sorpreso e perché perché ho guardato il calendario del napoli e perché ho visto che la settimana prossima ci hanno il sassuolo in casa loro e poi ho visto che c'è di mezzo ovviamente anche la champions league no c'è di mezzo l'intracht in casa dell'intracht quindi ho pensato ma se il napoli non fa turn over in casa contro la cremonese no nel momento in cui poi arriverà un periodo ricco e denso ma quando lo fa sto turn over e poi sono rimasto però spiazzato da un qualcosa che io non avevo notato e che probabilmente spalletti intelligente da persona intelligente qual è da uomo conoscitore del calcio aveva già capito a prescindere ragazzi ossia che la cremonese oggi aveva quel qualcosa in più proprio perché li avevano battuti in coppa italia li avevano portati ai calci di ricordo e poi li avevano eliminati quindi la cremonese da ultima in classifica oggi come poteva presentarsi al maradona se non con quell'atteggiamento con l'atteggiamento di una squadra che non c'ha assolutamente niente da pretendere da se stessi perché già hanno preteso qualcosa e sono riusciti ad arrivare a gettare il cuore oltre l'ostacolo ed è per questo che che spalletti alla fine ha deciso di puntare senza lasciare nulla al caso sui titolarissimi su quelli che ti devono indirizzare la partita su quelli che devono portare a casa il risultato e poi ragazzi ci si penserà partita dopo partita a quel che verrà e magari anche alle forze da gestire veramente grossi 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 complimenti io avrei commesso l'errore poi magari avesse messo Simeone dall'inizio avesse messo qualche rincalzo magari sarebbero comunque riusciti a portarla a casa però capite bene che se un allenatore c'ha dei titolari e c'ha delle riserve un motivo c'è sempre no è perché sa che quei titolari possono dare quel qualcosa la cremonese ragazzi l'aveva preparata benissimo secondo me la partita proprio nei singoli tasselli e poi torniamo continuiamo a parlare sempre di quello io in maniera provocatoria l'altro giorno su twitter vi ho detto provocazione ma non troppo secondo me attualmente Osimè e Neckvara sono il duo più forte in Europa in assoluto nessuno è secondo a loro in questo momento cioè nessuno è davanti a loro in questo momento non lo so ditemi voi che cosa ne pensate perché partita dopo partita poi chi le decide chi li decide i match ragazzi chi chi li indirizza e chi li chiude è praticamente sempre 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 loro e ripeto anche un altro concetto rapidamente che ho espresso qualche giorno fa è troppo facile di che il duo più forte so De Bruyne e Haaland troppo facile di che so Mbappé e Messi che costano che valgono no poi Mbappé soprattutto è stato pagato un sacco di soldi che varia è stato pagato 10 milioni di euro Osimè per carità investimento importante ma ha avuto un processo di crescita non c'ho più parole per descrivere che Vara onestamente è praticamente non mi ricordo ma sarà praticamente arrivato un doppia cifra sia per gol quasi sia per gol che per assist ed è un qualcosa di veramente incredibile lo ribadisco per un giocatore che è stato preso a 10 milioni di euro e che probabilmente regà ripensando no a prima di non dico a prima dell'arrivo appena arrivato no uno poteva pensare un investimento che potrebbe cadere nel dimenticatoio no uno prova a sostituire il Lorenzo Insigne della situazione poi magari sto ragazzo delude se fa tanta panchina fai girare parecchi giocatori là davanti hai buttato 10 milioni di euro ecco credere anche in un progetto credere anche in alcuni calciatori così giovani oggi compiva compie in realtà 22 anni a 22 anni si sta prendendo non solo il napoli ma mi permetto di dire in mano anche la serie a perché attualmente sì attualmente è l'esterno secondo me più forte della serie a non voglio rientrare nei meriti del leao kvara perché attualmente secondo me per il periodo che sta passando leao e per il periodo che sta passando kvara non sono paragonabili pazzesco sotto ogni punto di vista anche la grinta che ci ha messo lo sano dal punto di vista difensivo ai primi minuti quando fa quel recupero pazzesco la veramente capisci quanto spalletti sia riuscito a trasportare la squadra con questo tipo di mentalità un attaccante uno che si dovrebbe occupare principalmente no solo di attaccare e di e di andare al tiro no e di trasformare le occasioni da rete lottano per qualsiasi causa anche per quella difensiva come in questo caso e poi di che cos'altro vogliamo parlare dell'atteggiamento della gremonese ragazzi già ve ne ho ve ne ho parlato ampiamente secondo me c'è poco da aggiungere poi la partita ovviamente primo tempo è finito 1 a 0 quindi non era chiusa ovviamente la partita c'è voluto un po di tempo a minuto 65 è arrivato il secondo gol di victor osimen ma fino a quel momento ragazzi secondo me la cremonese ha fatto veramente con le loro possibilità hanno fatto tutto quello che che potevano fare e la forza ovviamente di questo napoli poi è anche i ricambi no come spalletti ti inserisce in un contesto anche altri calciatori e questi calciatori comunque ragazzi sono sempre 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 in un modo o nell'altro utilissimi alla alla causa ecco utilizzare le riserve inserite a partita in corso per far rifiatare determinati calciatori questo è il ragionamento che fa spalletti non lo fa prima acquisisce il risultato e poi pensa a gestire e a risparmiare scusatemi qualche forza utilizzando i suoi i suoi tasselli guardo la classifica ragazzi poi analizzerò insieme al buon fabio ovviamente ma non credo ci sia altro da aggiungere il divario con l'attuale seconda in classifica che c'è una partita in meno e potenzialmente potrebbe avere 46 punti ma il divario comunque è ancora in saccoccia e resterà a prescindere invariato poi l'inter non dovesse far risultato con la sampdoria la staremmo parlando addirittura di un ulteriore allungo e questo non ve lo posso garantire e assicurare però intanto il napoli si è assicurato la sua vittoria e continua a fare il suo campionato a parte pensano a loro non pensano agli altri se vinci gli altri possono anche vince a te non te ne frega niente e credo che sia arrivata anche la giusta maturità in un allenatore come luciano spalletti per portare questo napoli e qui mi riallaccio alla provocazione di inizio contenuto ad un ciclo che potrebbe secondo me durare veramente un bel po non dico come il ciclo della juventus però questo potrebbe essere l'inizio e lo dico alla giornata 22 quindi ne sono passate parecchie giornate ma sto napoli veramente sta dimostrando grandissime cose e quando entra nella testa dei calciatori quello step a livello mentale e poi è difficile togliergli quella mentalità quella fame quella voglia di vincere quella rabbia perché te senti più forte di tutti ti senti a mani basse ma non con quel pensare di non essere umili in senso buono quello che ha fatto la juventus in realtà in nove anni di scudetti no e poi anche il trasmettere il timore reverenziale le altre le altre squadre che ti percepiscono come la squadra più forte più difficile da affrontare no e quel timore poi è un circolo che si attiva e che rema tutto in una direzione non so se sono riuscito ad esprimere pienamente quello che volevo esprimere comunque lascio a voi il vostro parere qui sotto nei commenti che ne pensate testo napoli ragazzi io arzo le mani mi piace commentate condividete iscrivetevi a tutti i canali social in descrizione contenuti consigliati grazie per la visione e alla prossima con un nuovo video ciao raga